Musica Non tarda ad arrivare la risposta del ministro delle imprese Adolfo Urso, intercettato a Roma, che apre alla richiesta del governatore Emiliano. Siamo in dirittura d'arrivo, dice, salvo nuove soluzioni, i commissari Ilba sono pronti. Assemblea affollata per AIG, l'associazione delle imprese dell'indotto Ilba. Davanti alla portineria C, il presidente greco ha confermato il salvataggio di crediti in caso di amministrazione straordinaria, ma il presidio continua. C'è anche un artista originario di Sava in gara a Sanremo, si chiama Alessandro De Santis, il frontman del duo I Santi Francesi. Per la Kermesse il gruppo si presenta con il brano L'amore in bocca. Ben ritrovati, è un momento dell'informazione in diretta dedicata a Taranto e provincia. Il governatore di Puglia, Michele Emiliano, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, proponendo che sia la regione Puglia pagare i debiti di Acciaieri e d'Italia verso le imprese tarantine dell'indotto. Ed oggi non tarda ad arrivare la risposta proprio del ministro Urso, intercettato a Roma per noi dal collega Francesco Manigrasso, che apre alla richiesta di Emiliano. Non siamo in dirittura d'arrivo, dice. Salvo nuove soluzioni, i commissari Ilva sono pronti. È possibile esaminare agli uffici la possibilità, che potremmo suggerire alla regione Puglia, di utilizzare, ove lo consentisse lo statuto e le norme della regione Puglia, di utilizzare la propria finanziaria, così come ne abbiamo fatto con Meteocredito Centrale, con la copertura assicurativa della Sace. Di fatto, per il titolare del Mimit, se questo strumento fosse compatibile con le norme sugli aiuti di Stato, potrebbe essere una strada aggiuntiva che la regione Puglia può mettere in campo con le proprie risorse. Sono giorni decisivi sulle prospettive di Acciaieri e d'Italia con l'amministrazione straordinaria che incombe sullo stabilimento e sui lavoratori. Per il ministro, udito in Senato, dopo aver messo in salvaguardia i crediti delle imprese, salvo ulteriori sviluppi, si procederà nella direzione del commissariamento. Bisogna però attendere il confronto con gli azionisti che è tutto rincorso e che potrebbe portare eventualmente a una soluzione che deve in ogni caso garantire il rilancio produttivo occupazionale e la riconversione ambientale. Le parti, cioè il socio pubblico e quello privato, si stanno confrontando e lo faranno fino all'ultimo momento utile, ove non ci fosse un'altra soluzione che desse certezze e garanzie per il rilancio produttivo occupazionale e per gli investimenti ambientali e del sito Sideruggio che noi riconteniamo centrale per la politica industriale del nostro Paese, abbiamo tutti gli strumenti ormai certificati per procedere all'amministrazione straordinaria. Relativamente a quanto dichiarato dal governatore di Puglia, Michele Emiliano, monito di Fratelli d'Italia al presidente Emiliano relativamente alla situazione ex Silva. Presidente, scrivono in una nota, la smetta di prendere in giro i pugliesi e fare propaganda elettorale risolve i problemi per i quali è stato eletto. Naturalmente approfondiremo la questione di quelle che sono un po' le manifestazioni, diciamo, di pensiero contrario a quello che ha dichiarato il governatore nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Continuiamo a parlare del Siderurgico Ionico, affollata l'Assemblea per AIG, l'Associazione delle imprese dell'indotto ILVA, davanti alla Portineria C, il presidente Greco ha confermato il salvataggio dei crediti in caso di amministrazione straordinaria, ma il presidio continua. Passi in avanti, soddisfazione ma anche tanta prudenza, l'AIG ha tenuto un'Assemblea generale dei propri associati davanti alla Portineria C di Acceieria d'Italia per aggiornarli sulle ultime novità. Il decreto ILVA del governo unificato ed ancora soggetto ad emendamenti mette in salvo i crediti delle imprese dell'indotto anche in caso di amministrazione straordinaria. AIG ha proposto delle correzioni in fase di valutazione da parte dei tecnici del Ministero. Noi abbiamo già presentato una bozza di proposta per gli emendamenti su tutti e quattro gli articoli che sicuramente è stata presa in considerazione da parte dei parlamentari, dei senatori e dallo stesso Mimit. Ho mandato un'email anche al dottor Veltri che ha apprezzato il nostro rapporto. Adesso attendiamo solamente che venga ufficializzata come si intende procedere per i pagamenti diretti alle aziende perché la situazione ancora non è molto chiara ma i tecnici del Mimit sia per questo che per il discorso IFIS stanno già lavorando e quindi ritengo che è una questione di ora. Il presidio rimane anche perché parliamoci chiaro il problema non è, non abbiamo risolto i nostri problemi i crediti sono ancora fermi. La recente visita alle portinerie dell'amministratore delegato di Acceglierie, Lucia Morselli intanto ha suscitato qualche perplessità soprattutto riguardo alla richiesta fatta ai promotori del presidio permanente di tornare in azienda. Ho fatto una dichiarazione poco felice secondo me ma ci può stare perché non tornate a lavorare. Ritengo che lei sappia benissimo i problemi che hanno causato questa protesta e quindi chiaramente c'è un problema strutturale tra i due soci. Domenica prossima Michele Misseri tornerà in libertà nella sua villa ad Avetrana abbiamo dunque raccolto i pareri dei cittadini. Avetrana per Michele è tranquilla non dà nessuna preoccupazione. Non c'è odio né timore tra gli avetranesi per il rientro di Michele Misseri che dal carcere di Lecce domenica 11 febbraio ritornerà in Via del Edda 22 nella sua villa dopo aver scontato 8 anni per l'occultamento del corpo della nipote Sarascazzi. Alla fine sono passati per i cittadini anche non c'è preoccupazione ormai non c'è più niente da avere paura. Sarà ignorato penso, almeno io lo ignoro quindi è come si va avanti per la solita strada lui per la strada sua, non per la strada nostra. E gli avetranesi come lo stesso sindaco Antonio Iazzi ha dichiarato si mostrano sereni sebbene stanchi del ritorno del circo mediatico sul caso Scazzi. Che cosa pensiamo? Niente. Ho tanti problemi che ci sono oggi come oggi pensare ormai a cose che sono successe. Anche se siamo convinti o almeno io sono convinto che lui doveva marcire in carcere. E stretta invece nel silenzio non vuole parlare la mamma di Sarascazzi Concetta Serrano che vive qui alle mie spalle in Via Vicoverdi a 300 metri all'incirca dell'abitazione dei Misseri dove la figlia ha perso la vita. Non l'ho vista proprio da quando è saputo morire. Non esce tanto? No, non esce tanto. Non esce tanto. Però c'è sempre un perdono di uno e allora dobbiamo perdonare anche noi. Bullismo e cyberbullismo ma anche la violenza nei confronti degli operatori della scuola sono stati questi gli argomenti al centro della giornata organizzata dalla CISL Scuola Puglia e Taranto Brindisi al Teatro Tarentum. Uno spettacolo teatrale per far riflettere i giovani su bullismo e cyberbullismo ma anche un dibattito per analizzare i gravi episodi di violenza che toccano la scuola e anche Taranto con la recente aggressione ai danni del dirigente scolastico del comprensivo Europa Ligieri Marco Cesario è la sintesi della giornata organizzata dalla CISL Scuola Taranto Brindisi e CISL Scuola Puglia al Teatro Tarentum con la presenza di istituzioni scolastiche docenti, studenti in forze dell'ordine. Lo spettacolo Laico Dislike con Antonello Conte e Barbara Galeandro ha preceduto il convegno ricco di interventi e domande. C'è una vera e propria onda violenta nei confronti del mondo della scuola. È una condizione davvero preoccupante che attraversa la scuola italiana al di là delle regioni, dei territori. È un fenomeno europeo mi sento di dire quindi è una condizione che riguarda il sistema educativo e l'alleanza che dovrebbe esserci tra le famiglie, la società civile e l'istituzione scuola. Quindi vuol dire che bisogna ripartire dai fondamentali. La questione bullismo non è un fenomeno facile anche da analizzare. Si nascondono tutta una serie di insidie. È ovvio che parlare con i ragazzi ascoltarli è fondamentale. C'è un'aggressività c'è un'azione di violenza nei confronti anche degli operatori della scuola e noi abbiamo vissuto l'episodio anche a Taranto nei giorni scorsi che non trova una giustificazione se non all'interno di un contesto più ampio di una società in cui c'è una deriva valoriale importante. È stata presentata questa mattina in conferenza stampa nel Palazzo di Città Taranto la seconda edizione di Discovery T. Un viaggio culturale nel cuore della città vecchia di Taranto organizzato dall'associazione Artava Taranto con l'ingresso libero al centro della seconda edizione di Discovery T presentata in conferenza stampa nel Salone degli Specchi a Taranto. Il tutto in collaborazione con il Touring Club italiano per quanto riguarda il distretto di Taranto e con la scuola di estetica CEAS con Guida Imperfetta la Vigna d'Andria e con tanti tanti amici delle associazioni che sono a noi vicini. In particolare voglio invitare tutti a venire nella nostra sede nel pomeriggio di sabato 10 perché ci saranno dei laboratori per i più piccini. Noi ci teniamo, ci saranno una serie di laboratori poi ci sarà il trucca bimbi con la scuola CEAS poi ci saranno Carmen Adamo racconterà la storia di Peter Pan nella sua chiave molto originale per cui vi aspettiamo vi aspettiamo godiamoci la nostra città. Si tratta di un evento straordinario inserito nel piano di rigenerazione sociale per l'unità di crisi di Taranto con il patrocinio del comune la scuola di estetica CEAS ed il Touring Club italiano del territorio di Taranto. E c'è un artista originario di Sava in gara a Sanremo si chiama Alessandro De Santis e il frontman del duo I Santi Francesi per la Kermesse il gruppo si presenta con il brano L'amore in bocca. Baffetto e barba finemente incolta zazzera castana pelle olivastra e chiaro e salentino Alessandro un altro dalle origini pugliesi che calca il palco saramese 2024 di Sava in particolare sebbene sia nato in Piemonte ma le radici non si scordano mai e De Santi si infatti tra i cognomi più diffusi nel paese tarantino e questo non genera perplessità il cantante che con Mario Francese il tastierista ha voluto giocare con le lettere dei propri cognomi dando vita al duo I Santi Francesi fedeli certamente ma alla musica e all'amore come il titolo di questa canzone Amaro in bocca che ha subito estasiato il pubblico dell'Ariston loro che di strada ne hanno già fatta tante in realtà reduci dalla vittoria 20-22 di X Factor un altro orgoglio pugliese per questo Sanremo insieme ad Alessandra Legramaro Emma Diodato e al trentennale della scomparsa di Modugno la Puglia si sa incrocia le dita per un altro trionfo e di scelta per fortuna quest'anno ne ha tanta ed è tutto il Tg dedicato a Taranto e provincia termina qui ci fermiamo per qualche istante a tra poco in concomitanza con la marcia su Roma di migliaia di trattori in protesta anche Brindisi ha fatto registrare la sua manifestazione numerosi agricoltori hanno sfilato per le strade della città un giovane Brindisino di 36 anni ufficiale sulle navi da crociera è morto in un incidente stradale su un'isola del mare dei Caraibi rimpatriare la salma è tutt'altro che semplice il territorio Brindisino si farà trovare pronto per l'appuntamento del G7 in programma giugno a Borgo Ignazia lo assicura il presidente della provincia Tony Matarrelli in audizione alla Camera dei Deputati ancora ben trovati nuovamente in diretta il comparto agricolo manifesta attraverso quella che passa agli onori della cronaca come la protesta dei trattori oggi anche nella città adriatica vogliono costringerci a lasciare i nostri campi per favorire l'importazione dai paesi ex europei dandoci un contentino noi non ci siamo e continueremo a protestare contro questa scelerata politica europea così il portavoce degli agricoltori di Brindisi e provincia ai microfoni di Antenna Sud problema in tutta Europa ci sono scioperi in Olanda in Grecia in Spagna in Portogallo in Francia in Germania il problema è questo appunto l'ascelerata politica europea ci sono normative che in Italia non esistono in realtà il Ministero della Salute in Italia è uno degli più intransigenti in Europa futuro incerto ricatute occupazionali negative non solo continueremo a protestare ad oltranza perché oltre alla politica nazionale ed europea ci sentiamo penalizzati anche dalle regioni continuano gli agricoltori la manifestazione di giovedì 8 febbraio a Brindisi ha visto una massiccia partecipazione di agricoltori che dopo la marcia sul capoluogo sono giunti in via Spalato dove ad attenderli c'erano i rappresentanti della comunità africana molto attivi nel comparto agricolo brindisino anche loro spaventati per tutto quanto accade la protesta proseguirà ad oltranza c'è un'altra domanda a questi signori che sono al potere se noi ci fermiamo il comparto agricolo si ferma quante persone rimarranno senza lavoro giù a Largo Spalato c'è anche la presenza della comunità africana sarebbero ragazzi che lavorano per conto nostro delle aziende qui a Brindisi ma anche in provincia che va bene anche loro sono preoccupati vogliono dimostrare perché giustamente perderebbero le possibilità di lavorare e quindi di sussistenza arriva una soluzione la vicenda dei lavoratori del centro antiviolenza di Brindisi con l'accordo siglato tra comune sindacati e cooperative si plaga il dibattito sul centro antiviolenza di Brindisi dopo le manifestazioni dei giorni scorsi con una iniziativa in piazza promossa dal sindacato CGL l'incontro e le tensioni presso palazzo di città tra sindacati lavoratori amministrazione comunale ma uno scontro anche politico avvenuto il giorno seguente nella commissione servizi sociali un forte dibattito che però aveva messo in secondo piano l'attenzione alla risoluzione del problema poi l'incontro già previsto nella serata di mercoledì tra il commissario comunale Angelo Roma i rappresentanti dell'amministrazione comunale l'assessore al ramo Pisanelli e il vice sindaco Ogiano i rappresentanti delle cooperative e dei sindacati hanno portato alla firma dell'accordo che mette a tutela tutti e otto i posti di lavoro con il rischio per quattro lavoratori dovuti allo scorporamento dei servizi con il nuovo piano regionale alla soluzione grazie all'inserimento di nuovi fondi messi dall'amministrazione comunale dal fondo povertà e che mette quindi a tutela i lavoratori ma anche ovviamente i cittadini per il proseguimento del servizio per le violenze ai minori e alle donne a tutela ovviamente dei cittadini Un giovane brindisino di 36 anni ufficiale sulle navi da crociera è morto in un incidente stradale su un'isola del mare dei Caraibi rimpatriare la salma è tutt'altro che semplice dopo tre mesi di navigazione in giro per il mondo era sbarcato ad Aruba una piccola isola caraibica vicino alle coste del Venezuela aveva preso a noleggio un'auto una Kia e si stava godendo la meritata vacanza quando alle 3 di notte del 30 gennaio è uscito fuori strada è morto così Giuseppe Papagni 36 anni brindisino ufficiale di bordo delle navi da crociera l'autopsia ha stabilito che non aveva bevuto né fatto uso di stupefacenti solo un tragico incidente la notizia è arrivata in Italia diverse ore dopo pubblicata su Facebook da una sua collega di lavoro prima ancora che la famiglia ne fosse informata increduli gli amici e ne aveva tanti Giuseppe non solo a Brindisi ma in tutto il mondo ora però la salma è ancora ad Aruba per riportarla in Italia occorrono tanti soldi gli amici hanno aperto autonomamente una sottoscrizione sul web il consolato italiano in Venezuela e la Farnesina stanno offrendo la massima collaborazione alla famiglia per restringere i tempi del rimpatrio della salma il territorio brindisino si farà trovare pronto per l'appuntamento del G7 in programma a giugno a Borgo e Ignazia lo assicura il presidente della provincia di Brindisi Tony Matarrelli in audizione alla Camera dei Deputati le risorse sono minime non sono sufficienti a garantire servizi diciamo all'altezza ciò nonostante riteniamo che questa diciamo vicenda del G7 per il nostro paese e per il nostro territorio sia talmente importante per cui noi produrremo ogni sforzo possibile nonostante i tagli nonostante le risorse limitate nonostante tutto perché l'appuntamento è troppo importante il presidente della provincia Tony Matarrelli ne è certo la Puglia la provincia di Brindisi si farà trovare pronta quando il prossimo giugno dovrà ospitare i grandi leader del G7 in programma a Borgo e Ignazia nel suo intervento da presidente durante l'audizione alla Camera dei Deputati Matarrelli non nega le difficoltà io ero parlamentare ai tempi in cui fu approvata la legge del Rio e quindi voi conoscete bene quali sono le condizioni delle province e sapete bene anche che quest'anno c'è stato un ulteriore taglio Matarrelli pure promette non solo il massimo sforzo ma anche il massimo risultato l'ulivo secolare il mare nostrum l'accoglienza del territorio Brindisi è una grande occasione investiremo quelle poche risorse che abbiamo per fare in modo che evidentemente tutti questi ospiti prestigiosi che verranno a trovarci potranno avere un buon ricordo sì della provincia di Brindisi della Puglia ma ritengo dell'Italia perché sono convintissimo che si debba agire sempre con questo pensiero è iniziato presso la prefettura di Brindisi il riconteggio dei voti relativi alle elezioni amministrative dello scorso anno a San Pietro Vernotico si concluderà venerdì il riconteggio delle schede relative alle elezioni amministrative dello scorso anno a San Pietro Vernotico per stabilire se la sindaca eletta Maria Lucia Argentieri ha riportato effettivamente un numero di preferenze superiore a quelle ottenute dallo sfidante Pasquale Rizzo il riconteggio relativo alle schede contestate disposto da una sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso di Rizzo precedentemente bocciato dal Tar e iniziato presso la Prefettura di Brindisi alla presenza di un ufficiale verificatore del Vice Prefetto dei legali dei ricorrenti e di alcuni testimoni di entrambe le parti in causa nella sola veste di osservatori dopo una prima fase del conteggio effettuata mercoledì restano le schede di altre quattro sezioni da riconteggiare secondo una prima valutazione il divario tra i due candidati delle passate amministrative si potrebbe ridurre ma con numeri non sufficienti a colmare la distanza degli otto voti che avevano favorito la lista domani permettendo a Maria Lucia Argentieri di prendere il posto proprio di Rizzo alla guida di San Pietro Vernotico sarà poi il Consiglio di Stato a determinare eventuali annullamenti dei voti in dubbio a favore o contro i ricorrenti e sarà poi lo stesso Consiglio di Stato a stabilire entro 90 giorni dalla ricezione della verbalizzazione sui controlli in prefettura l'esito del ricorso ossia se confermare l'elezione di Maria Lucia Argentieri o ribaltare il verdetto a Francavilla Fontana si ricorda Pietro Filomeno è stata ricordata a Castelli Imperiali nel corso di una serata intrissa di ricordi ed emozioni la figura di Pietro Filomeno docente e giornalista ma soprattutto attento osservatore di fatti locali e nazionali un opinionista senza peri sulla lingua l'occasione è stata data dalla presentazione del saggio sui tragici fatti di sangue accaduti a Francavilla l'8 e il 9 maggio del 1945 la serata è stata organizzata dall'edicola un format che raccontava luce ed ombre della città e dalla testata online Paesi Tuoi News l'editore Cataldo Montanaro ricorda così Filomeno Pietro è stato un collaboratore specialmente negli ultimi anni della mia casa editrice per cui io ne sono grato a Pietro di quello che è stato il suo lavoro che ha svolto per me e poi Pietro ha scritto moltissimo però non ha mai scritto un libro e stavolta abbiamo trovato l'occasione giusta per fare il libro la professoressa Carmela Candida ha illustrato il saggio è un vero e proprio storico che contestualizza inserisce l'episodio dei fratelli Chionna che di per sé era un episodio già trattato in altre pubblicazioni lo contestualizza in un quadro storico più vasto che sia pure con diverse esternazioni si manifesta in tutta Italia Perfetti Sconosciuti in scena al Teatro Brindisi Un successo assicurato per lo spettacolo di Paolo Gedovese Perfetti Sconosciuti che dal cinema approda al teatro con un cast di altissima qualità guidato da Paolo Calabresi che ha fatto ridere e riflettere il pubblico brindisino con lo spettacolo andato in scena presso il nuovo Teatro Verdi di Brindisi il legame con la tecnologia e i segreti che ogni singola persona porta dietro di sé e nel rapporto con gli altri che spesso parte dal virtuale e nasconde il reale Vabbè dai segreti ce li abbiamo sempre tutti da tanto tempo anche da tempo immemorabile quando non esistevano questi cosi però adesso è più delicato perché questa scatola nera che avevamo nel nostro da qualche parte dentro di noi adesso l'abbiamo messa come un hard disk esterno depositata lì dentro e quindi diventa tutto più delicato e pericoloso da un certo punto di vista devo dire che dopo la pandemia i primi a riempirsi sono stati teatri prima ancora dei cinema che fanno ancora molta fatica vuol dire che il pubblico aveva proprio bisogno sentiva una mancanza di vivere lo spettacolo dal vivo vedendo gente viva finalmente intorno a lui davanti a lui e fare una rappresentazione di qualunque genere e viverla accanto a persone magari sconosciute perfetti sconosciuti con cui condividiamo un'opera bella brutta triste allegra ma comunque un'opera viva ed è tutto il TG dedicato a Brindisi e provincia termina qui ci fermiamo per qualche istante a tra poco un autista di uno scuola bus è stato condannato dai giudici della prima sezione collegiale del tribunale di Lecce per violenza sessuale aggravata e continuata e addescamento di minori per ogni bambino nato un albero d'ulivo la famiglia del maestro Marcello Gennari dona un'opera al comune di Lecce Villa Nobel a Sanremo luogo che ospita eventi collaterali del festival della canzone italiana dalla quale passano tutte le star di questi giorni è illuminata dalle luminarie dei fratelli Torquato e Rocco Parisi nuovamente in diretta ben trovati un autista di uno scuola bus è stato condannato dai giudici della prima sezione collegiale del tribunale di Lecce per violenza sessuale aggravata e continuata e addescamento di minori con le accuse di violenza sessuale aggravata e continuata e addescamento di minorenni i giudici della prima sezione collegiale del tribunale di Lecce hanno condannato a nove anni di reclusione un uomo di 49 anni originario di Collepasso autista di uno scuolabus di una ditta privata in Salento la sentenza è stata emessa dal giudice Fabrizio Malagnino che ha riconosciuto anche un immediato risarcimento del danno di 50.000 euro ai genitori di uno dei ragazzi che si erano costituiti parte civile con l'avvocata Gabriella Mastrolia la condanna inoltre supera la richiesta avanzata dal PM Luigi Mastroniani che aveva invocato in sede di giudizio sei anni di reclusione l'inchiesta è partita nel maggio 2022 in seguito alla denuncia presentata ai carabinieri dal padre di una delle presunte vittime infastidito proprio dai messaggi ricevuti dal figlio con l'approfondimento delle indagini gli investigatori avrebbero scoperto sei casi di molesti e abusi da parte dell'uomo su alcuni studenti tra i 14 e i 16 anni che accompagnava ogni giorno in vari istituti scolastici della zona dal gennaio dello scorso anno l'uomo è agli arresti domiciliari essendo stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla GIP Laura Liguori ora il 49enne difeso dall'avvocato Fabrizio Mangia potrà valutare il ricorso in appello non appena saranno depositate le motivazioni nella notte tra mercoledì e giovedì tre aree di servizio sono state prese di mira da un malvivente a Galatone si indaga per risalire al responsabile tre furti con spaccata e un bottino probabilmente inferiore rispetto ai danni provocati comunque ancora in fase di quantificazione e il bilancio dei furti avvenuti nel giro di mezz'ora tra l'una e l'una e mezza circa della notte tra mercoledì e giovedì a Galatone ai danni di tre aree di servizio situate alla periferia del comune salentino il primo luogo ad essere stato preso di mira dal malvivente è stato l'henistation di via Lecce qui l'uomo a bordo di univeco daily che risulta rubato dalla sera precedente si è lanciato a tutta velocità contro la colonnina dell'erogazione di carburante self-service sradicandola dalla base impossessandosi della cassaforte interna poco dopo sempre la stessa persona ha impiegato il veicolo su cui viaggiava per abbattere la vetrata del distributore di metano di via Savoia dopo essersi impossessato anche in questo caso del registratore di cassa a ripartire ha raggiunto il bar del distributore Kuwait di via Mare per mettere in atto l'ultimo furto sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato di Nardò e i carabinieri che stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire al responsabile degli episodi non si esclude chi ad agire possa essere stato un residente del posto rapina in una tabaccheria si indaga avrebbe fatto irruzione all'interno del locale con il volto coperto da un passamontagna e puntando un coltello contro il titolare dell'attività avrebbe intimato di farsi consegnare l'incasso della giornata riuscendo a fuggire poi con un bottino di oltre 6.000 euro è così che è stata messa a segno una rapina in una tabaccheria di via Santa Maria dell'Idria a Lecce nella serata di mercoledì stando a quanto è stato riferito agli agenti della squadra mobile intervenuti sul posto il colpo è stato consumato all'ora di chiusura quando l'uomo ha fatto irruzione approfittando dell'esercizio ormai vuoto in seguito all'episodio il titolare dell'attività commerciale ha opposto resistenza e ne è nata una colluttazione dalla quale fortunatamente non si registrano feriti l'individuo invece è riuscito a dileguarsi tra le strade del capoluogo Salentino con il bottino sull'accaduto indagano gli agenti della squadra mobile di Lecce che hanno raggiunto la zona insieme ai colleghi della sezione scientifica i poliziotti sono già in possesso delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica e il percorso seguito dal malvivente per ogni bambino nato un albero d'ulivo la famiglia del maestro Marcello Gennari dona l'opera al comune di Lecce è stata inaugurata a Palazzo Carafa l'opera per ogni bambino prossimo a nascere si è piantato un ulivo di Marcello Gennari una delle personalità di spicco della scultura salentina scomparso a quasi 90 anni nel 2022 l'opera un pannello di 2 metri per 3 è stata donata alla città per espresso desiderio della moglie e del figlio dell'artista ed è stata collocata sulla parete frontale lungo la scala monumentale che dal latro principale porta i piani superiori di Palazzo Carafa la famiglia dell'artista vuole fare un dono alla città fondamentalmente e ritiene che l'amministrazione comunale la casa dei cittadini sia il luogo giusto dove esporre un'opera che ha anche un messaggio importante che è legato alla nascita dei bambini e per combinazione parla dell'ulivo che non era neanche quando l'artista Marcello Gennari lo ha realizzato non c'era neanche quel problema dell'axilella quindi però combinazione adesso è un messaggio ulteriore che noi aggiungiamo a quel messaggio che ha voluto dare l'artista il pannello fu commissionato da privati per l'installazione in un atrio di un condominio nel 1978 il titolo emotivo ispiratore dell'opera come riportato sul lavoro stesso per ogni bambino prossimo a nascere si è piantato un ulivo è un dono che ci impegna a tenere anche viva la memoria dell'artista che è stato un artista molto importante e a preservare tutto quello che sono le opere d'arte che ci vengono regalate che ci vengono donate e che vengono comunque esposte stiamo facendo diverse attività in questo senso stiamo restaurando stiamo mettendo in esposizione stiamo insomma facendo un'opera di ricuscitura di tutta quella che è la storia della città la storia artistica della città sembra essere tutto pronto per il centro commerciale che dovrà sorgere nel parcheggio dei fiori un megacentro commerciale con una galleria per la moda extra lusso che ha già suscitato l'interesse del gruppo Witton sarà questo il cuore pulsante della piazza una galleria a due piani con negozi e ristoranti un centro polifunzionale da vivere di giorno e di notte e che ha già attirato l'interesse delle grandi multinazionali e brand di lusso e questo quindi il futuro di piazza di Toschipa l'area è oggi oggetto di un importante cantiere di riqualificazione che cambierà volto all'ex caserma massa con percorsi pedonali nuovo verde pubblico e un mega parcheggio a uso pubblico da 466 posti auto le premesse per diventare il fior all'occhiello della città ci sono tutte la galleria commerciale si svilupperà su un lungo percorso d'anello su due piani collegati tra loro da ascensori e scale mobili e ospiterà circa 20 locali commerciali al piano inferiore e 7 locali a quello superiore immobili sui quali sono già puntati riflettori dei privati e di gruppi imprenditoriali che negli ultimi anni hanno già opzionato i primi locali commerciali al piano interrato sorgerà invece un piccolo spazio museale per esporre dei reperti della chiesa di Santa Maria del Tempio ritrovati nel corso dei lavori infine sarà realizzato anche un nuovo mercato cittadino presentato a Lecce Erasmus Experience è stato presentato la progettazione europea e le iniziative di impatto sociale Project School in collaborazione con il Comune di Lecce si appresta a realizzare la prima tappa del Roadshow Erasmus più Experience un evento informativo incentrato sulla pianificazione europea e sulle iniziative di impatto sociale programma europeo in ambito formazione e apprendimento è un'opportunità importante per l'associazione e gli enti che lavorano in ambito formativo sotto vari aspetti sia formale che informale per poter realizzare e finanziare i propri progetti oggi ci concentreremo proprio nel raccontare tutte le opportunità di finanziamento e dare dei consigli pratici agli enti che lavorano in questo settore su come presentare candidature e ottenere i finanziamenti per i propri progetti formativi un lavoro che mira a favorire il dialogo e lo scambio di conoscenze sulla progettazione europea e sulle opportunità offerte dalla col Erasmus più la manifestazione è stata introdotta da Raffaele Parlangieri dirigente del Comune di Lecce con deleghi a programmi progetti PNRR contratto integrato di sviluppo programmazione strategica europea e rigenerazione urbana la collaborazione tra Project School e Comune di Lecce sottolinea l'impegno condiviso nel promuovere la cooperazione in ambito europeo svolgendo un'attività di divulgazione e coinvolgimento in merito alle opportunità e lo sviluppo territoriale le luminarie salentine protagoniste a Sanremo ci troviamo proprio nella bottega nella bottega dove nasce l'art dove i fratelli Parisi Rocco e Torquato Torquato appunto qui insieme a me creano la magia creano la bellezza delle luminarie una delle tradizioni più antiche del Salento che sta illuminando la scena anche a Sanremo Certo ti corrego non essere il Salento diciamo della Puglia del sud Italia in genere abbiamo colto l'occasione della richiesta che ci hanno fatto lì alla Villa Nobel in Sanremo per portare la nostra tradizione le nostre origini lì nella Villa Nobel a Sanremo per noi è stato diciamo una punta di orgoglio essere lì in quel punto con tutte quelle personalità che stanno lì e stanno ancora vedendo le nostre bellezze dico nostre perché mi sento del territorio del nostro territorio della nostra gente ecco dopo aver illuminato la scena per Dior lo state facendo anche a Sanremo lì diciamo dopo il Dior va bene abbiamo rappresentato il Dior al mondo abbiamo rappresentato così le luminarie e lì a Sanremo la collaborazione è nata tramite degli amici degli amici amici degli amici in comune parlando e si è trovato poi un accordo solo guardandoci negli occhi voi facciamo certo si parte si va e a proposito di andare siamo andati noi a scoprire dove vengono costruiti i carri allegorici di Andrano una tradizione che si tramanda di generazione in generazione con la presidente Roberta Minafro presidente appunto dell'associazione nuova area antica di Andrano siamo nel luogo dove nasce la magia dove vengono creati carri allegorici esatto sì questo è il luogo dove quest'anno per il carnevale andranese 2024 stiamo preparando i carri allegorici come potete vedere siamo ancora nel clou dei lavori perché questa è la settimana più importante dove dovremmo finire tutti i carri entro domenica e quindi fare la sfilata domenica 11 e martedì 13 febbraio ad Andrano ecco quali sono i temi dei carri di quest'anno allora abbiamo diversi temi il tema del Salento l'usule l'umare l'uyentu poi abbiamo il tema del pirata dei caraibi poi Willy Wonka la fabbrica di cioccolato poi un omaggio alla musica e al grande Gigi D'Agostino il circo il figli dei fiori poi i country perché alcuni carretti non sono neanche qui però abbiamo veramente tanto 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 da farvi vedere è una cosa bellissima io parlo non tanto con la voce ma col cuore perché veramente ci credo ci credo sta socializzazione tramite il carnevale ecco è bellissimo appunto questo tramandare le tradizioni ma come vengono realizzati poi concretamente i carri proprio in due parole beh i carri vengono ideati e poi subito alla costruzione ideato senza passare su un su un foglio di carta ma direttamente alla costruzione con dei ferri saldati e poi si parte per la costruzione finale che sembra la carta pista ed è tutto il TG dedicato a Lecce provincia termine qui grazie per averci scelto per averci seguito tra pochissimo l'appuntamento pomeridiano dedicato al festival della canzone italiana grazie a tutti voi rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo